Benvenuti, cari follower. Un terremoto molto forte ha colpito l'Italia questa sera, domenica in ottobre 2023. Provoca grande paura. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci innanzitutto ammirando questo video. Inoltre iscrivetevi al nostro canale così riceverete una notifica non appena si verificherà un nuovo terremoto in Italia. Grazie. Il Centro Sismologico Europeo ha annunciato che questa domenica sera, intorno alle 15.30, è stato registrato un forte terremoto nel sud Italia. Secondo la stessa fonte il terremoto sarebbe avvenuto a Napoli, precisamente nella zona dei Campi Flegrei, ad una profondità di due chilometri sopra la superficie terrestre. Fino ad ora il Centro Sismologico Europeo non è stato in grado di determinare la forza di questo terremoto e lo sta ancora calcolando. Stando però alle prime informazioni a nostra disposizione dalla Sala Operativa di Napoli. L'intensità di questo tremore varia da 3. Fino a 3,5 della scala Richter. I residenti hanno avvertito una vibrazione chiara e leggera che è durata alcuni secondi. Questo terremoto non ha causato alcun danno. Vi stiamo seguendo. Cercheremo di comunicarvi altre novità importanti in seguito. Alla fine vi auguro di rimanere in buona salute.